Buongiorno, io sono il dottor Fabrizio Russo, tengo il corso di Psicologia Criminale Investigativa. All'interno del corso affronteremo diverse tematiche, parleremo di psicologia criminale, quindi dei profili degli autori di crimini violenti, degli autori di crimini sessuali, parleremo di psicopatologia, parleremo di come viene tracciato il profilo degli autori di crimini violenti, come vengono collegati i crimini messi in atto, compiuti dallo stesso autore in diversi luoghi, parleremo anche di geographical profiling, quindi del movimento territoriale degli autori di crimini violenti, faremo diverse esercitazioni e in queste esercitazioni io mi avvarrò anche dell'ausilio di fotografie, di scene del crimine reali, quindi vi aspetto al corso.